Come preparare un DJ set oggi? Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude andiamo ad affrontare questo argomento molto interessante che me lo avete pure chiesto svariate volte come devo preparare un DJ set una serata un evento tante le cose da fare e tanti i metodi spesso sbagliati scelti andiamo ad analizzare un po di aspetti interessanti Preparare un DJ set una serata o un evento non significa fare un premixato o una scaletta da seguire alla lettera è un modo per sfruttare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione adesso ce ne abbiamo veramente a IOSA per cercare di rendere più agevole tranquillo più fluido il nostro DJ set la nostra serata anche in base a tutto ciò che ci potrebbe capitare e che magari non abbiamo calcolato ed allora quali sono i passi da seguire le cose più importanti da preparare e in che modo tutti argomenti che seguo personalmente nei miei corsi della SOS4DJ Academy singolarmente one to one non in gruppo solo per le tue esigenze reali live online senza alcun video registrato ed uguale per tutti non siete tutti uguali potete contattarmi tramite il sito corsidjproducer.com o tramite le nostre pagine social in privato solo per coloro che vogliono info o appuntamenti su corsi lezioni e consulenze private per tutto il resto lasciate qua sotto nei vostri commenti anyway da dove si comincia ovviamente supponendo che il setup sia pronto e cioè la console il vostro controllo ai vostri lettori le casse se siete un mobile dj a proposito sapete la differenza fra mobile dj e club dj ci ho fatto un video poco tempo fa insomma tutto ciò con cui mixate diamo per scontato che abbiate la padronanza del materiale e dei loro collegamenti ed allora quello di cui abbiamo tutti bisogno inevitabilmente è la musica quindi prima cosa la musica acquistatela tramite supporto fisico se usate i vinili cd insomma vecchio stile o digitalmente sui vari portali dove si scarica musica legalmente o meno quelle a far vostro ve lo dico sempre che sia itunes beatport amazon apple music anche qui c'è un video sul canale dove andare a scaricare musica oppure tramite i servizi di pool dj o streaming ecco per molti finisce qua la preparazione della serata anzi neanche fanno questo così fanno passare la copia della musica da qualche collega o amico senza neanche scaricarla buttano tutto in chiavetta o sul software e stop buona nota suonatori e poi è normale che ci siano lacune nel set non solo tecniche dj set inascoltabili che non hanno né capo né coda gente che ripete le tracce tre quattro volte durante la stessa serata salti di palo in frasca che non si possano sentire volumi sballati eccetera eccetera la musica va ascoltata curata cuccolata e soprattutto selezionata per i nostri gusti personali ed in base al mercato dove pensiamo di operare quindi se acquisto lo scarico mille tracce devo in primis conoscerle farle mie selezionarle ascoltarle prepararle per quando le andrò a mixare a suonare prima con i dischi visto che costavano si andava ad ascoltarli in negozio si passava le giornate lì o il venerdì o il sabato provavi acquistavi solo quello che realmente pensavi ti potesse servire un po come il meme quello che gira sui social no quando lo sviluppo dei rullini lo pagavi col cazzo che fotografavi piatti al ristorante o all'aperitivo un lavoro spesso lungo noioso per alcuni che però già inizia a differenziare il nostro dj set da quello della massa ed è il primo importante passo sì perché l'andazzo normale di molti dj e lo vedo anche da quello che mi dite quello che fanno con me nei corsi personali è preoccuparsi di avere tutta la musica del mondo ci si preoccupa di quello non di conoscerla sapere come si sviluppa quando è forte quando è molle la struttura oppure altro errore scaricarsi le hits di ogni genere da ogni portale e pensare di essere tranquille solo con quello è oioioioioioioioioioioi dov'è che mi nascondete è una pratica comune sì lo so è una tecnica usata da quelli che non hanno tempo e magari lo fanno come hobby come divertimento eccetera eccetera però ricordiamo anche che il dj nonostante tutto per molti ancora una professione e quando sentite uno bravo veramente magari non capite il perché probabilmente non usa questa tecnica qua dell'andare alla rinfusa come va va e poi dal vivo boh addrizzo il tiro questo lo può fare al massimo uno che ha una padronanza molto 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 forte della propria musica e della situazione live ma anche qui i rischi ci sono nessuna immune anyway la musica va ascoltata bene e selezionata e poi divisa in cartelle playlist cazzo abbiamo la tecnologia che ci permette di fare tutte le cose del mondo in pochissimo tempo e allora sfruttiamola no importantissimo provare ed iniziare a fare test in studio nella vostra cameretta per iniziare la fase della selezione vera e propria in cartelle o playlist lì che c'è le prime scremature di visione sul vostro pc o mac per fare un bel lavoro per esempio mix din key ci aiuta già a catalogare per chiave bpm genere ma ci sono tanti programmi poi potete inserirle nelle chiavette ordinate per i vostri gusti o inserimento diretto nelle varie playlist in base al vostro setup playlist che non devono essere infinite cioè piene di tracce vedete questa 458 tracce quindi non è una playlist che ci si può andare a suonare è una playlist troppo enorme una playlist di catalogo quindi playlist non infinite se no si passa il tempo durante la serata andare a scarrellare su e giù alla ricerca della traccia giusta poi le possiamo dividere per la qualunque andandosi a creare le proprie playlist molti software come vedete in questo caso tractor danno la possibilità di creare le smart list quindi mettere delle condizioni ordinare per bpm ma non solo tractor ci sono tutorial in qualsiasi genere sul canale ma anche vedete le playlist intelligenti andandosele a creare sia con tractor come visto come record box quindi andando qui crea una nuova lista intelligente dandoli i campi con virtual con engine quindi tutto playlist sotto playlist dove potete creare le vostre infinite cartelle mentali chiamiamole così ci sono modi infiniti per creare playlist adatte alla serata da lì dentro possiamo personalizzare in un secondo momento i tag se non l'avete fatto prima la chiave i punti di più quindi vedete la chiave in questo caso è qua sul record box mentre su tractor se andiamo ce la mette in questo caso chi qui dentro possiamo andare ad aggiungere in base ai campi che abbiamo scelto qualsiasi informazione come i commenti come il bitrate oppure scegliendo di dare un colore alla traccia come vedete in questo caso verde oppure questo possiamo metterla gialla in base a tutte le nostre esigenze qua i tag possono essere cambiati se prima non l'avete fatto e con l'edit sui vari campi ma adesso faccio vedere anche record box perché sennò si pensa che sia tutto questo può essere fatto anche con tractor ma anche con record box vedete qua possiamo aggiungere un sacco di informazioni ed anche con virtual quindi pure qua con virtual andando sull'editor possiamo andare a cambiare tutti i campi che ci interessano compreso la copertina idem per engine digit quindi per qualsiasi software voi abbiate sotto mano è possibile andare a personalizzare qualsiasi campo per renderci tutto più facile e poi possiamo andare a ordinare per genere per artista per rating per lunghezza come detto ma anche per una nostra sequenza personale ordinata quindi possiamo mettere questo al primo posto questo al secondo questo al quarto per fare una sorta di pseudo scaletta diciamo così sovraffollamento attenzione a non esagerare buttando le tracce dentro nel software e nelle cartelle conversioni uguali remix bootleg se non differenziate e selezionate il collasso è dietro l'angolo ed è tutto tempo perso in serata tempo prezioso che se invece avete tutto in ordine vi consente di fare virtuosismi controllare bene la situazione non stare sempre con la testa ficcata nel computer o sui lettori insomma che non è neanche bello da vedersi insomma tempo che serve per essere vigile sulla serata fatto il lavoro organizzatevi un bel backup per qualsiasi evenienza da tenere su un altro dispositivo diverso dalla chiavetta con la quale lavorate con le chiavette o dal computer per esempio una copia dell'usb o un hard disk con tutte le playlist pronte può servirvi in molti casi di emergenza e poi importantissimo cosa che molti non fanno intrecciare i dati dove suono davanti a chi quali generi per quanto tempo quale orario target location setup spazio dei collegamenti ho parlato col gestore aspetti legali soldi spese viaggi distanze di questo abbiamo ampiamente parlato ma è ovvio che tutto questo ci si ripropone ogni volta tutti questi dati vanno intrecciati con la preparazione della serata delle chiavette delle playlist sì perché un altro errore colossale che molti fanno non è che se hai fatto una volta le playlist poi quelle sono pronte per tutta la vita bisogna sempre andare a modificarle ritoccarle aggiungere catalogare ancora ecco dopo che abbiamo intrecciato i dati esterni con quelli nostri interni andiamo a rifinire il lavoro già fatto ossia a spostare cancellare aggiungere tracce in base alle esigenze del momento o creare intro situazioni particolari che rendano unico il vostro dj set un consiglio che do spesso è pensare a quello che potrebbe essere è quello che vorresti fare e trovare un giusto compromesso fra queste due cose immedesimatevi nella serata anche se poi non andrà così fatevi un'idea una linea che poi non è detto che seguirete o farete ma almeno sapete da dove cominciare o se dovete uscire dal seminato da dove eventualmente riprendere sono tutte cose dove l'esperienza aiuta è ovvio ma non salva al 100% ed il piano b c e d ci serve sempre per poter cambiare in corsa anche gli allenatori di calcio durante la partita cambiano modulo alla squadra no tutti i piani che spesso passano dall'organizzazione fatta a casa e dalla versatilità del dj stesso più un dj è ottuso musicalmente con il paraocchio fissato su un genere e più facilmente si troverà in difficoltà a meno che non sia nella propria comfort zone ma il pubblico non è sempre lo stesso tutte le sere anche se sei nello stesso posto ed il mood cambia di continuo quante volte avete detto o sabato scorso hanno ballato sto pezzo oggi nulla ha fatto un buco insomma c'è da lavorare se vogliamo un buon risultato e sudare veramente se vogliamo un ottimo risultato non lo nascondo questo non esistono regole magiche per avere successo in pubblico ci vuole testa e lavoro oltre alla preparazione tecnica adeguata e voi come preparate il vostro dj set o le vostre serate fatecelo sapere qui sotto nei commenti corsi per dj corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social perché sono indicati corsi per chi inizia da zero per chi è già bravo ma vuole migliorarsi e non riesce a raggiungere lo step successivo e per chi vuole fare il salto definitivo di qualità verso il professionismo consulenze su tutti i hardware software e tutti gli argomenti trattati dal canale compreso quello burocratico suonare in regola tutto ciò che è legale e quello che non lo è oltre a facebook e instagram c'è anche telegram il nostro canale ufficiale con tutto ciò che non trovate qui su sos4dj notifiche silenziosi chat interna se vuoi puoi farne parte da subito il nostro canale se ancora non ti sei iscritto puoi farlo qua ma anche abbonarti se vuoi vatti a vedere il video dove troverai la corsia preferenziale un sacco di video che parlano tutti e solamente del nostro mondo nient'altro quindi dj produzioni musicali dj's life e tutti divisi per playlist su tutto ciò che ti può interessare dal record box cubase ableton tractor e quant'altro ma anche il nostro merchandising ufficiale ovvero l'sos4dj merchandising il nostro negozio online con la linea esclusiva anyway sos4dj i play what i like e suono solo quello che mi piace vai a dare un'occhiata qua puoi attivare la campanella se vuoi essere informato e notificato su tutto ciò che accade sul canale e poi anche mettere un mi piace o condividere con i tuoi amici se pensi che tutto questo possa essere loro utile ci vuoi aiutare lo puoi fare tramite super grazie qua sotto o sostieni sos4dj la preparazione di un dj set di una serata è fondamentale adesso non si può più rischiare andare partire anche se molti lo fanno ma poi i risultati ahimè si vedono questo fa parte di un percorso di crescita per molti oppure è la base per molti dj che chiaramente lo fanno da molto tempo oppure lo fanno come professione pura fatemi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti come sempre da parte di sos4dj e claude vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale importantissima per potervi offrire sempre di più per potervi far crescere insieme a noi ricordandovi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio pi ri 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 Back from de Wanda v Grazie a tutti